Made in Italia Agroalimentare, etichette dei prodotti lattiero caseari, materie prime italiane. Su questi temi di grandissime attualità si concentra la prima indagine conoscitiva sui bisogni informativi dei consumatori italiani realizzata dall'osservatorio permanente sulla filiera italiana del latte presentata qui all'Expo, al Teatro della Terra, in una giornata organizzata da Granarolo. Ma che cosa dicono, che cosa sanno i consumatori italiani, che cosa chiedono, che cosa vogliono? Allora intanto il 50% degli intervistati non conosce il significato di Made in Italy di un prodotto alimentare, infatti il 30% crede che sia stato realizzato con materie prime italiane, mentre invece questo la legge non lo prevede. Il 96% però ritiene importante un prodotto che sia realizzato con materie prime italiane ed è disposto anche a spendere fino al 73% in più pur di averlo. Poi per le etichette alimentari il 95% degli interpellati le ritiene importanti, ma solo il 18% le legge integralmente. Se guarda soprattutto la data di scadenza, ma poi anche qui si fa un po' di confusione fra termine minimo di conservazione e data di scadenza. L'84% è sfavorevole all'uso per produrre i formaggi e il 96% ritiene importante avere una filiera agroalimentare controllata. Questi i dati salienti appunto presentati, analizzati in occasione di questo incontro al quale ha preso parte il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. Un'occasione quindi per tastare il polso al settore lattiero caseario che lo sappiamo vive un momento molto complicato, molto difficile, ma anche per fare un bilancio di questa esposizione universale ormai al termine. Dennis Pantini, responsabile area di ricerca, agricoltura e industria alimentare di Nomis, ma allora che scenari si aprono per il settore lattiero caseario? Scenari ovviamente ben al di fuori dei nostri confini. Sì, nel senso che a livello nazionale osserviamo un calo di consumi di prodotti lattiero caseari ormai strutturale da un decennio, mentre all'opposto una forte crescita di richiesta di prodotti lattiero caseari italiani in giro per il mondo. Tra questi sicuramente gli Stati Uniti, un mercato importante che potrebbe essere ancora più importante se si sblocca ad esempio l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Il grande problema del mercato dei falsi, della tutela dei marchi si risolverà in prospettiva? Allora, diciamo che questa diffusione di prodotti falsificati o imitativi deriva anche dalla forte notorietà dei prodotti italiani. Quanto più un prodotto è conosciuto, tanto più è copiato. Quello che però è importante considerare è che in molti casi c'è prodotto copiato perché poi non siamo in grado anche di portare il prodotto originale. Se già iniziamo a risolvere questa problematica che è legata anche alle piccole dimensioni delle imprese, alla ridotta capacità di internazionalizzazione che hanno, beh, ci sono spazi di mercato ancora da conquistare. Ovidio Marzaioli, Vice-Segretario Generale del Movimento Consumatori. Allora, i consumatori interpellati che voi avete interpellato in questa indagine, che cosa dicono? Quali sono i dati salienti? Allora, dicono che è molto importante conoscere l'argomento della filiera agroalimentare, soprattutto nel settore lattiero-gaseario. È fondamentale avere informazioni ed è probabilmente l'elemento più importante da sottolineare. Poi la sottolineatura ulteriore, uscita, è l'importanza di sapere da dove le materie prime che noi utilizziamo per fare un prodotto o agricolo o lattiero-gaseario in particolare, da dove arriva. Perché uno dei grandi temi è stato e sarà sempre, fino a che non cambieremo questa normativa, è che in Europa non ci obbligano a dichiarare il prodotto da dove arriva, nel senso di tutta la filiera controllata. Cosa che invece in Italia avviene normalmente, e di fatti è allo studio un disegno di legge in Parlamento, già c'è in Parlamento un disegno di legge in cui si parla esattamente della obbligatorietà di questa filiera. Abbiamo riassunto i risultati di questa prima indagine dell'osservatorio permanente sulla filiera italiana del latte, ma la dobbiamo considerare un punto d'arrivo o un punto di partenza? La domanda l'agito a Gabriele Arcuri, che è responsabile legale di Feder Consumatori. Allora si arriva qui o si parte da qui? No, si parte assolutamente da qui, anzi è una partenza che coincide con quello che è l'attività dell'osservatorio e la presentazione dell'osservatorio, perché abbiamo ritenuto che quello che era lo spirito, tutte le strategie di questo osservatorio, ben si sposavano con questa nostra prima indagine, quindi raccogliere dei dati, osservare in primo luogo, elaborare queste informazioni e trasformarle da informazioni in conoscenza e consapevolezza per il consumatore.